Da più di due millenni è il punto più importante della città. Ci troviamo nella piazza del mercato di Spoleto. Pensate, era dagli anni 60 che si cercava un modo per riqualificarla, ma solo nel 2018 si è trovata la soluzione. Guardate coi vostri occhi la bellezza e la solidità di questa pavimentazione. Sono i sistemi mappei per pavimentazioni architettoniche in pietra. Grazie a tutti.